Consigliere, seduta importante oggi qui in Regione sul Piano Casa, cosa c'è da aspettarsi? Allora, innanzitutto prima del Piano Casa ci siamo noi che abbiamo presentato una proposta di legge per una commissione di inchiesta sulla sanità. Poi magari ne parliamo un attimo a margine. Sì, per quanto riguarda il Piano Casa è stato diviso in realtà in due proposte di legge, la numero 75 e la 76. La 75 è quella originale che era stata presentata, invece la 76 vuole recepire quelle che erano state le indicazioni del Consiglio di Stato in materia. La Regione evidentemente non aveva fatto bene il suo dovere e gli è stato chiesto di recepire queste cose, per cui Zingaretti ha chiesto di sospendere un attimo il Consiglio di Stato su questo tema e avrebbe presentato una proposta di legge ad hoc per sanare queste due mancanze, diciamo. E questa è quella che andrà in discussione oggi, per cui noi riteniamo che sicuramente sarà un lavoro piuttosto snello. Personalmente come Movimento 5 Stelle abbiamo presentato 18 emendamenti di merito, il collega Santori per esempio ci stavano dicendo che ne aveva presentati 7, per cui saranno emendamenti di sostanza e sicuramente non durerà moltissimo. E poi c'è la 75, dove invece c'è veramente il grosso di quello che è il piano casa regionale e lì ci saranno diverse battaglie, qui magari noi siamo un po' più defilati, però tra destra e sinistra sicuramente ne vedremo delle belle. E a proposito di sanità, lontano da qui a Sora e Frosinone si manifesta ancora, ci sono gli abitanti, anche i sindaci del distretto sanitario che chiedono più attenzione per la loro malandata sanità. E' certo perché purtroppo questo dissesto in cui ci troviamo già da diversi anni, che cosa ha provocato? Ha provocato l'abbandono dei poliospedalieri e comunque dei presidi sanitari più marginali, diciamo rispetto a quello che è il fulcro della domanda che è rappresentato dalla città di Roma. Per cui loro giustamente chiedono di non essere abbandonati, di non vedere i loro poliospedalieri chiusi o alcune sezioni di questi, tra cui i pronto soccorsi, per esempio, che sono una parte fondamentale del rapporto con i cittadini. A questo proposito noi abbiamo presentato già, credo un paio di settimane fa, una mozione che è stata largamente condivisa dai consiglieri di opposizione, che è stata presentata dal consigliere Fardelli, proprio per il non abbandono di alcuni poliospedalieri, tra cui giustamente quello di Sora e quello di Frosinone. e crediamo che fare pressione su questo, soprattutto se i cittadini la fanno, sia molto determinante su quelle che sono le politiche della Giunta.